nell'ultima lezione vi ho dato non proprio delle vere e proprie dimostrazioni ma degli indizi molto forti sul perché il formato binario sia il più adatto ad essere poi trasformato in circuiti elettronici funzionanti il prossimo passo è quello che ci vedrà esplorare come i vari tipi di informazione partendo da quello numerico esattamente corrispondente al binario, ecco perché parleremo di binario puro, siano rappresentabili nelle RAM di un computer appena più in là scopriremo però che il binario puro non è efficiente e comunque non tiene conto delle inevitabili limitazioni che abbiamo a che fare quando ci confrontiamo con risorse limitate dopo questa introduzione andiamo fattivamente a interessarci del tipo di dato numerico più semplice, a intuito almeno da rappresentare, i numeri interi, cioè quelli senza la parte decimale anzi parlare di numeri interi in generale quindi positivi e negativi è già troppo complicato cominceremo con i numeri interi positivi per capire più facilmente come funzioni quello binario conviene entrare in dettaglio su alcuni aspetti che noi diamo per scontati, neanche ci pensiamo più, tanto siamo abituati dicevo conviene partire da quello decimale entrambi sono sistemi detti posizionali perché i simboli utilizzati per indicare una quantità numerica hanno un valore differente a seconda della posizione che assumono in quella rappresentazione nel sistema decimale ovviamente i simboli che possiamo utilizzare sono le cifre da 0 a 9 ho parlato di cifre che sono appunto i simboli, da non confondere con il numero che è una sequenza come 3228 di questi simboli a formare la rappresentazione di una quantità numerica cercheremo ora di capire con che criterio si attribuisce un valore a quella scrittura partiamo proprio da quella che ho utilizzato cos'era 3297 se non era quella facciamo finta che sia questa 3297 posizionale dicevo il valore di questo simbolo la cifra 7 è dipendente dalla posizione che assume che ha all'interno del numero infatti il 7 messo qui sta a rappresentare 7 unità e tutti sanno, spero, che invece un 7, lo stesso simbolo messo qui vale invece 700 o 7000 o 70.000 la posizione del simbolo decide il suo valore e questo numero che siamo abituati a vedere in questa forma è in realtà la forma compatta di una scrittura più corretta che corrisponde all'esplosione, all'espansione, si dice polinomiale di questo numero in pratica vuol dire rendere evidenti i pesi di ogni cifra i pesi sono associati a potenze crescenti del 10 perché noi usiamo 10 cifre e quindi il sistema è detto non a caso decimale partendo da destra questo vuol dire che il peso l'apporto, il contributo di questo 7 è quello associato alla potenza 0 del 10 quindi questo 7 sta per 7, in realtà per 7 per 10 alla 0 10 alla 0, come qualunque numero elevato alla potenza 0 da 1, quindi come scrivere 7 per 1 cioè 7 le unità la seconda cifra è quella invece di 10 alla prima quindi sono crescenti partendo da 0 la potenza 0 del 10 la potenza 1 la potenza 2 e così via 9 quindi per 10 alla prima cioè 10 90 infatti questo 9 rappresenta proprio il 90 più 7 è 97 a seguire questo 7 è quello delle centinaia centinaia cioè 7 per 10 al quadrato il 3 è il 3 delle migliaia cioè di 3 per 10 alla terza che è appunto 1000 3 per 1000 infine questo 7 è invece quello delle decine di migliaia cioè 10 alla quarta 10.000 7 per 10.000 70.000 più 3.000 73.000 più 700 più 90 più 7 e abbiamo il nostro 73.797 chiunque si può rendere facilmente conto che sarebbe una vera pizza scrivere i numeri sempre così anche perché questo per la prima cifra sarà sempre 10 alla 0 questa parte sarà sempre 10 alla prima e così le altre è la posizione che conta allora si è ovviamente preferito usare la forma compatta cioè non mettere questi coefficienti che sono fissi immutabili automaticamente determinati semplicemente contando le posizioni ed è il nostro modo conclusivo di rappresentare la quantità numerica corrispondente al 73.797 e questo conclude per quello che ci interessa il discorso del quando la base è 10 il sistema binario applica gli stessi identici concetti ma usando due soli simboli lo 0 e l'1 lavora sulle potenze con le potenze del 2 vediamo un attimo prima 10 simboli da 0 a 9 qua ne ho 2 quindi si arriva sempre come cifra alla base meno 1 base 10 10 meno 1 9 infatti uso da 0 a 9 qua la base 2 vuol dire utilizzare solo due simboli e ritroviamo i nostri mitici 0 e 1 sono gli unici che possiamo utilizzare quindi non esiste il 2 non posso al massimo arrivo a 1 i numeri qua sono rappresentati da sequenze mediamente più lunghe per il momento a livello intuitivo poi lo capiremo quando faremo 4 calcolini di questo potrebbe essere un numero binario mettiamoci un 1 davanti perché qualunque sia la base gli 0 davanti contano niente applichiamo lo stesso concetto di prima facciamo un pochino più corto altrimenti non ci sto così bene questo allora che cos'è? è l'1 corrispondente alla prima la potenza 0 della base che ho come riferimento il 2 quindi qua scriverò 1 perché non è 7 ma è 1 e invece di 10 qua metterò 2 1 per 2 alla 0 che è sempre 1 le unità sono unità per tutti il secondo numerino che è uno 0 questo 0 qua che dovrei mettere quindi in verde e anche qui 0 poi la terza cifra il terzo bit quello in giallo pesa per 2 per 2 al quadrato e quindi è 1 in pratica quando c'è 0 non sommiamo quella potenza quando c'è 1 invece la sommiamo a seguire c'è il peso di 2 alla terza e devo metterlo col 0 cioè in pratica non sommarlo e infine 2 alla quarta con l'uno lo sviluppo polinomiale è il modo con cui ora basta fare la somma quindi 2 alla quarta più 0 più è dicevo il modo con cui si opera la conversione da un numero binario e per capire che binario è meglio mettere un 2 come apice e come pedice però un attimino eccolo qua poi lo mettiamo magari in nero ecco altrimenti abbiamo il dubbio ma è il 10101 in decimale no no è 1 0 1 0 1 se volete pronunciamolo pure ancora 10101 ma ha un valore ben diverso molto più piccolo ovvio potenza di 2 potenza del 10 infatti è 2 alla quarta 16 l'8 viene saltato più 4 quindi 20 poi il 2 viene saltato 1 21 quindi se non ho sbagliato a fare conti me lo direte voi con qualche post questo valore qua quindi equivale al 21 in base 10 un attimino quindi questo numero in base 2 è in realtà solo 21 in base 10 ma è intuitivo perché esaurendo quale combinazione molto più frequentemente rispetto ad avere 10 simboli l'unico modo per differenziare i numeri è quello di aumentare il numero dei bit infatti infatti adesso adesso in una prossima pagina proviamo a contare da 0 e vedere come si procede lo 0 si scrive 0 anche in binario con lo sviluppo polinomiale sarebbe 0 per 2 alla 0 ok l'1 si scrive così 1 è ancora 1 1 per 2 alla 0 i guai cominciano già adesso mentre contando con 10 simboli potrei dire ah beh il 2 lo scrivo così il 3 lo scrivo così e qua non posso ho già esaurito tutte le combinazioni che posso fare con un solo bit o è 0 o è 1 devo cominciare a fare quello che normalmente col sistema decimale farei quando arriva 9 e usare due cifre e scrivere 1 0 anche qua scrivo 1 0 solo che lo leggo 10 ma in realtà il valore in decimale corrisponde al 2 0 per 2 alla prima più 1 per 2 eh perdon è 0 per 2 alla 0 più 1 per 2 alla prima quindi 2 quindi 10 in binario corrisponde al 2 in decimale quando il numero è piccolo è anche abbastanza facile andare ad occhio ovviamente la combinazione 0 0 e corrisponde ancora allo 0 iniziale andiamo avanti quindi il 3 beh il 3 lo scriverò come beh ho l'unica altra combinazione che è avanzata è questa qua perché con 2 bit ho 4 possibili combinazioni questo è il 3 infatti è 1 per 2 alla 0 1 come al solito più 1 per 2 alla prima 2 più 1 è 3 e di nuovo ho già esaurito le combinazioni devo passare a 3 bit se voglio aumentare il valore con 3 bit abbiamo allora quello che in binario è scritto 100 ma il valore in realtà è 0 per 2 alla 0 0 per 2 alla prima 1 per 2 alla seconda questo è 4 poi possiamo ricominciare ad usare le cifre dell'unità quindi il 5 diventa 1 0 1 4 più 1 5 per il 6 scriveremo 1 1 0 4 2 alla seconda più 2 alla prima 6 e infine il 7 mi sposto qui perché non vedreste anzi mi sa che ho parlato ma vi ho mangiato un po' di combinazioni scusatemi riprendiamo quindi 2 alla 0 più 2 alla prima questo è 3 1 per 2 alla 0 1 più 1 per 2 alla prima questo è 4 0 per 2 alla 0 0 per 2 alla prima e 1 per 2 alla seconda questo è il 5 4 più 1 5 questo è il 6 4 più 2 6 il 7 1 1 1 noterete che in gioco forza visto che stiamo sommando potenze del 2 quando il numero finisce per 0 è per forza pari perché dalla seconda cifra in avanti ho 2 più 4 più 8 più 16 magari qualche volta non c'è quella potenza ma comunque sto sommando numeri pari la somma di numeri pari è sempre un numero pari quindi se l'ultimo bit poi è 0 rimane pari quando l'ultimo bit è 1 diventa dispari per forza perché ha un numero pari che è certamente dato dalla somma di tutte le altre cifre pesate in base alle potenze del 2 aggiungo un 1 ottengo per forza matematicamente il numero dispari quindi a colpo d'occhio nella rappresentazione binaria quando l'ultimo bit è 0 abbiamo a che fare con un numero pari e quando il numero bit è 1 abbiamo a che fare con un numero dispari e così via arrivati a 7 di nuovo quando nel sistema decimale avremo ancora a disposizione altre cifre l'8 e il 9 prima di esserne guai e di scrivere 10 qui invece già lo siamo per cui adesso abbastanza intuitivo le combinazioni dato un certo numero di cifre di simboli di bit in questo caso si esauriscono molto prima e i numeri si allungano con molta più facilità grosso modo ci vuole il triplo di cifre binarie a corrispondente numero decimale più o meno attenzione perché sto a perdere una cosa importante e cioè non è che solo per il fatto di usare solo due cifre il sistema binario sia meno potente meno espressivo cioè non c'è nessun numero decimale che io non possa esprimere semplicemente usando un numero decimale superiore anche in binario lo potremmo dimostrare matematicamente non vale la pena e c'è una corrispondenza b univoca cioè dato una sequenza di numeri binari il numero decimale corrispondente esiste sempre ed è uno solo quindi non posso fare confusione come dire il computer può fare tutti i conti che vuole rappresentazioni in binario e sono sicuro che poi basterà un passaggio finale per convertire in decimale senza confusione senza limitazioni se non date dal numero di bit che mi sono imposto o di necessità trovato a usare con il computer eh sì perché la RAM non è infinita per cui dovremo stabilire anche poi per motivi di prestazioni che non è conveniente lasciare libero il formato cioè usa il numero di bit che vuoi a seconda di quello che stai facendo ma fissare dei formati precisi fissi sempre gli stessi per due motivi importanti che approfondiremo però nella prossima lezione per ora quindi ci accontentiamo di aver capito come si rappresentano i numeri positivi perché per i negativi dobbiamo fare un bel discorsetto in binario puro ancora poi non abbiamo visto come sia possibile dopo fare somme e sottrazioni ma ci arriviamo un pochino alla volta non farò un trattato completo eh del sistema di numerazione binaria però quel tanto che ci permetterà poi di ragionare con agilità su temi come misuriamo l'informazione codifichiamo secondo un certo schema parliamo di compressione parliamo di trasmissione abbiamo un minimo di gergo e di concetti comuni con i quali è possibile capirci altrimenti sarebbe veramente quasi impossibile d'accordo finisco qui quindi la lezione e ci risentiamo alla prossima